Torna questa sera l'E21 Zona Calcio, la trasmissione sportiva di Tele Libertà in onda ogni lunedì per commentare il fine settimana calcistico. In diretta dallo Spazio Rotative, Nicoletta Marenghi condurrà la quattordicesima puntata della seconda stagione, insieme agli esperti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marcello Tassi. Ospite in studio il Ponte Green, formazione di seconda categoria. In primo piano il big match di Serie D Piacenza Lecco, che ha confermato il dominio incontrastato nel girone dei Biancorossi. In studio ci sarà il direttore sportivo del Piace, Massimo Cerri. E poi la Lega Pro, con la nuova vittoria esterna del Propriacenza a Meda con il Renate. Ancora per la Serie D, la delicata situazione del Fiorenzuola, ora solitario all'ultimo posto. E poi Spazio a tutti i campionati dilettanti. Oltre alle immagini di Renate Propriacenza, Piacenza Lecco e Olginatese Fiorenzuola, andranno in onda i servizi di Vigor Carpaneto San Michelese, Sporting Fiorenzuola Ponte Green e Primogenita San Corrado. Non mancheranno le rubriche, per tempi supplementari Alessandra Lucchini ha incontrato la Liberta Spess, mentre in 11 metri Michele Rancati ha sfidato ai rigori i portieri del Fiorenzuola. Per contattare la trasmissione sms al 335 74 22 274, whatsapp 335 54 38 909, email zonacalcio at teleliberta.tv, twitter at teleliberta hashtag zonacalciolive, facebook telelibertà Piacenza. Zonacalcio andrà in onda in replica martedì alle 9 alle 17, mercoledì alle 11, giovedì alle 10.45 alle 23, venerdì alle 9.30, sabato alle 17.